Musica Marco Vinto squadra avversaria molto tosta rispetto diciamo a qualcuna che avete preso fino adesso una buona partita anche sotto il punto di vista agonistico davanti a entrambe le squadre cosa vi serve per recuperare questi due gol? serve giocare più la palla e passare assolutamente il pallone che stasera davanti non si passa abbiamo sbagliato il gol facile da 0 metri che potevamo dare in vantaggio tranquillamente non è andata così ma nel secondo tempo vediamo di riprenderla bocca al lupo grazie Napolitano buona gara bellissimo gol il tuo va bene così penso cosa potete fare ovviamente per chiudere questa partita e cosa vi è mancato in questo primo tempo? grazie tanto per il gol diciamo che non è stato fortuito è stato voluto e nulla stiamo facendo un buon tiki tag diciamo che speriamo di segnare altri gol per chiudere questo partito in bocca al lupo credo andiamo dalla squadra riuscita a sconfitta Musella una buona partita prima del secondo tempo da parte vostra che nel primo io direi prima del secondo tempo negli ultimi 5 minuti abbiamo fatto 3 gol in difesa non so successo stasera non eravamo una squadra non eravamo una squadra negli ultimi 3 minuti 5 minuti abbiamo cercato di battare abbiamo fatto 3 gol però poi non siamo riusciti a da guantare il paligio anche nel secondo tempo non negli ultimi 5 minuti vabbè sarò da lezione per la prossima partita scusi la chiudere di dare questi due due gol? vabbè a nessuno la sconfitta vabbè comunque è una torcetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a meno della settimana posso dire che una gara da parte vostra la differenza loro forse un'unica la segnale di gara la grecia lo butterà o lo butterà? lo butterà o lo butterà? avete comunque esperienza ehm sì però secondo me quello è quello perché poi quando prendi un gol poi ti prendi il secondo la cacarella arriva eh beh certo il braccino il braccino alla fine è corto quindi c'è quello e c'è anche quello quindi va bene così l'importante alla fine è quello botti a chi vuoi dedicare questa ripetta? sempre alla mia squadra che stasera abbiamo lottato veramente bene 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 ci siamo divertiti caro grazie alla prossima complimenti e bocca al buco per il proseguimento ciao